Si torna a parlare di GAL, gruppo di azione locale. Si torna a riparlare di GAL durante il consiglio comunale di Bitonto. L'ennesimo affondo arriva dal consigliere di opposizione PD, Franco Natilla, e a tutta l'area di un affondo definitivo. Il comune prenda le distanze dal consiglio di amministrazione del GAL e lo faccia subito. Il Democratico spiega anche le ragioni. I dipendenti del gruppo di azione locale qualche mese fa hanno avuto un contratto di assunzione trasformato da determinato a tempo indeterminato. E allora è anche stata attribuita una qualifica funzionale immediatamente superiore a quella posseduta al momento. Un provvedimento ha ribadito Natilla, contrario ad una disposizione del governo Monti, che aveva congelato i contratti dei dipendenti pubblici dal 2010. I dipendenti del GAL, a concluso, sono stipendiati, seppur in parte, con denaro pubblico. Se ciò fosse vero, ci troveremmo di fronte ad un evidente abuso d'ufficio e di legittimità degli atti. Ma Natilla non risparmia la polemica su quello che più volte ha definito il regalo dell'amministrazione a Baticchio al GAL Fior d'Olivi. Due locali nel centro storico incomodato d'uso gratuito, questione sulla quale il sindaco aveva risposto, dicendo che il GAL è una società partecipata e controllata dal comune. E proprio su questo aspetto Natilla rincara la dose. A Baticchio ci spieghi perché il GAL Fior d'Olivi, quando assume personale o affida incarichi, deve ritenersi soggetto pubblico, mentre quando beneficia della concessione gratuita di immobili comunali diventa miracolosamente soggetto pubblico.